Allora la prima parola di oggi è stile. Non so se avete letto questa bellissima intervista di Giorgio Armani nel nuovo supplemento di Repubblica dice appunto una cosa bellissima e dice trovo debilitante il fatto che accendendo la televisione vediamo tutti questi scazzi fra di loro. Armani dice proprio questo e aggiunge questo non l'accetto occupano poltroni importanti sia per la prova del gente che per chi è diventato ricco lavorando perché i soldi non piovono al cielo. Insomma bella notizia qual è che Armani Giorgio Armani The King ci dà una lezione di stile. Giorgio Armani piacentino ma milanese di adozione sta per compiere pensato un po 90 anni l'11 luglio del 1934 è nato e allora da lui una bellissima lezione di stile appunto da chi ha fatto la storia dello stile. Insomma attenzione attenzione a usare bene le parole politiche. La seconda parola della settimana è felicità e qui Sinner ci ha detto qualcosa di speciale. Lui ha detto siate felici e avete già vinto. L'ha detto quando? Nella festa che ha fatto a casa sua assieme agli amici del paese e appunto aggiunge se fai la scelta giusta che te la senti che è proprio quella giusta hai già vinto. In sostanza caro Fabio e cari amici di Milano News la felicità che cos'è? È la vera vittoria da conquistare quindi felicità intesa come equilibrio come benessere personale. Infine c'è una terza parola e la terza ne abbiamo parlato diverse volte in quest'anno la riprendiamo da una puntata precedente è inclusione. Stasera oggi è lunedì 17 a Roma ci saranno i Wii Embrace Games. Cosa sono? I giochi senza frontiere. Dico perché ne parlo? Perché sono promossi da Bebe Vio che sappiamo qui a Milano ha la sua accademia Bebe Vio Academy. E quindi i ragazzi dai 6 ai 18 anni cosa possono fare? Possono praticare lo sport, diversi sport. Per esempio la scherma in carrozzina.